Io sono la campionessa in carica mondiale di latte arte, quindi ovviamente l'obiettivo raggiunto non è stato assolutamente semplice, è servita tanta dedizione, tanto allenamento, tanto sacrificio soprattutto, ma gli 80 litri di latte che consumavo al giorno per due anni e i 3-4 kg di caffè mi hanno fatto sì che io raggiungessi la vetta più alta e di questo mi sono molto contenta. Iniziamo con la faccia di un'aquila. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.